Era stata picchiata a colpi di sedia dal padre ubriaco perché aveva chiesto di poter avere lo zaino e dei quaderni nuovi per andare a scuola. Vittima delle violenze è una ragazza di Imola di 16 anni, tra l'altro studentessa modello, che assieme a sua madre che aveva tentato di proteggerla, è finita all'ospedale. Una storia che ha fatto il giro del web incontrando la solidarietà di tante persone. In primis quella di una bambina di 10 anni che ha deciso di scrivere alla sindaca Manuela San Giorgi per poter donare i suoi 15 euro di risparmi alla studentessa rimasta senza materiale scolastico. Da lì a pochi giorni altre persone si sono mobilitate e anche il comune tramite l'ASP ha deciso di intervenire aprendo un conto corrente dedicato per coordinare gli aiuti non solo a questa ragazza ma, più in generale, alle vittime di violenze. L'amministrazione comunale, afferma l'assessore al welfare Inad Mighini, si è attivata al fine di favorire dei punti di finimento certi dove la cittadinanza possa contribuire con donazioni in favore della ragazzina, a cui va tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno.